Viene convocata la conferenza preliminare dei servizi che è il primo punto, il primo passo verso la costruzione formale e giuridicamente anche fondata e vincolante del nuovo ospedale di Cuneo, l'ospedale AB della nostra provincia, l'ospedale più importante di questo territorio provinciale cuneese. Sul cronoprogramma di Cuneo oggi sono stati segnati dati importanti che ci permetteranno di andare a gara entro il 2024 con una realizzazione prevista in circa 7 anni, si va avanti senza indugio, si va avanti soprattutto per garantire il diritto alla salute dei cunesi e il diritto alla salute lo si garantisce anche con strutture nuove, moderne, efficienti, così come abbiamo la necessità di rivedere il patrimonio dell'edilizia sanitaria piemontese ed è il motivo per cui la nostra prima preoccupazione ma anche il nostro primo oggetto di investimenti è stata proprio nuovi ospedali per le comunità del Piemonte. Finalmente abbiamo concluso quelle fasi di revisione del progetto sia sotto il profilo clinico gestionale che sotto il profilo finanziario, il soggetto proponente ha dato a disponibilità la modifica del PFTE quindi noi stiamo partendo con la conferenza preliminare dei servizi, parallelamente abbiamo un percorso al ministero per l'utilizzo dei 150 milioni a fondo perduto destinati all'ospedale di Cuneo, insomma due percorsi paralleli che ci porteranno io mi auguro entro fine anno a vedere bandita la gara per la realizzazione del nuovo ospedale hub della provincia di Cuneo.